La discussione è aperta tra i vertici di Ghelas Multiservizio e l'amministrazione comunale. Tutto quasi passa dal nuovo contratto. Una bozza piuttosto definita c'è, ma i tempi per farla arrivare in consiglio comunale come proposta da vagliare sono piuttosto stringenti. A fine mese scade la proroga tecnica in essere e di conseguenza si andrà ad una nuova proroga. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha già dato mandato al segretario generale per predisporla. Il nuovo contratto infatti presuppone passaggi obbligati, compreso quello dei revisori dei conti. Il primo cittadino dopo gli incontri con il manager dell'inaus Guido Siragusa aveva ipotizzato che si potesse giungere in aula consigliare con il contratto entro fine mese proprio per evitare l'ennesima proroga. Invece si procederà gradualmente. La prossima proroga avrà durata almeno fino a novembre. In questo lasso di tempo, come precisa il sindaco Di Stefano, ci sarà modo di concludere l'iter e di portare il contratto prima possibile in consiglio comunale. Anche la scorsa settimana il primo cittadino ha visto il manager Guido Siragusa e i contenuti del contratto rimangono al centro dell'analisi tra le parti. Chiaramente Ghella sia una società che va rafforzata, gli aspetti contabili e finanziari sembrano reggere ma i servizi vanno razionalizzati e il personale necessiterebbe di nuove risorse. Le criticità non mancano e proprio Siragusa che prima delle amministrative ha preso il posto del predecessore, l'ingegnere Pietro Inferrera, a cambio in corsa certamente non privo di polemiche politiche, ha parlato di un momento difficile per l'azienda nel suo complesso. Anche quello di Ghella sia un aspetto che la nuova amministrazione non vuole sottovalutare seppur le condizioni finanziarie del municipio non siano per nulla brillanti e appesantite dal dissesto.